E' appena terminata la cerimonia di commemorazione del piccolo Tommaso, che i suoi compagni di scuola hanno voluto che si organizzasse in orario scolastico, questa mattina, nel cortile della scuola stessa. Sono intervenuti tutti i suoi compagni, c'era la preside, la signora Ugello, c'era l'insegnante Anna Ucci ed è intervenuto anche il sindaco Luca Serfilippi insieme agli assessori Loredana Mangernino ai servizi educativi e Lucia Tarsi. Ma soprattutto sono stati i ragazzi protagonisti di questa manifestazione, un momento di riflessione, un momento di cordoglio. Hanno letto i loro pensieri, quei pensieri che hanno scritto nella giornata di ieri, dopo quanto è accaduto, quando si è avvertita ancora di più il vuoto lasciato dal piccolo Tommaso. Ebbene sono state espressioni di dolore, di amicizia, di solidarietà. Il piccolo Tommaso è volato in cielo insieme ad uno dei suoi palloncini che alla fine della commemorazione è stato sciolto, è stato liberato verso il cielo. Ebbene, ognuno, dicevo, ha letto il suo pensiero, ma alla fine tutta la classe, la prima cappa dell'indirizzo di carattere ambientale, che contraddistingue l'Olivetti per quanto riguarda anche la gestione delle acque, un indirizzo nuovo a cui aveva aderito il piccolo Tommaso, avevano voluto leggere una lettera, ve ne leggo alcuni stralci. Purtroppo il dolore che hai lasciato dentro di noi sarà incolmabile. Te ne sei andato via troppo presto, questo è ingiusto. Avevi ancora una vita davanti. Dal primo giorno tutti noi abbiamo capito che ragazzo magnifico, solare e gentile fossi. Il nome e il tuo ricordo ci accompagneranno nei giorni futuri. E speriamo che tu possa trovare lassù la pace e la serenità che hai sempre mostrato a tutti noi, ma che purtroppo ti è stata portata via. Poi la lettera continua con altre espressioni, ma quello che risalta soprattutto è la parola gentile. Tommaso era una parola gentile, con questa parola lo ha ricordato la sua insegnante Anna Ucci, un ragazzo fragile che purtroppo non ha resistito ai malanni della vita. Domani i suoi funerali nella chiesa di San Cristoforo alle ore 15. Contemporaneamente un'analoga cerimonia si è svolta al volta, perché anche lì è morto un studente, un ragazzo un pochino più grande, aveva 20 anni, aveva un male purtroppo incurabile ed è deceduto nei giorni scorsi. Alle 11 di questa mattina un'uguale cerimonia si è tenuta per esprimere solidarietà e dolore da parte di tutti i suoi compagni di scuola. Si chiamava Francesco. Grazie a tutti.